Ve l'abbiamo anticipato, è con noi Domenico Agostinelli a cui diamo il buongiorno. Benvenuto nel nostro studio. Bene, buongiorno. Tra poco torneremo nel museo che abbiamo visto poco fa nelle immagini e quest'oggi vogliamo raccontare con lei una storia che affonda le sue radici lontane nel tempo, arriva qua nei dintorni di Roma, ma parte dall'Abruzzo e da quella cassettina di legno con cui lei andava in giro dal 1954 portando appresso una serie di cose che barattava, scambiava, vendeva. Esatto, io ho iniziato nel 1954, vengo da Campli, in provincia di Teramo e facevo parte di Santare di Campli, un mestiere tipico di Campli e nel 1954 ho iniziato a dare, facevo il girovago, come fu comprato oggi. Alla notte si andava a dormire nelle stalle nei fienili, non è che si andava in albergo e quindi era un mestiere povero, però era interessante perché si conosceva tanta gente e dopo quello non circolava i soldi, quindi in cambio di un quadruccio che ti dava una pizza di formaggio, che ti dava un fiasco di vino oppure qualcuno mi dava degli oggettini, per esempio il primo oggettino è stato l'ocarina allora chi me l'ha dato mi dava il Sant'Antonio per proteggere la stalla in cambio dell'ocarina, perché questo è di mio nonno quando è morto lui suonava con questa ocarina, le pecore mangiava di più, faceva più latte e poi durante l'inverno poi ci veniva in vicino a Focolare, suonava con questa ocarina e ci rallegrava le serate, allora mi innamoravo più della storia che c'era dietro all'oggetto che l'oggetto in sé per sé. E scambia, che ti scambia? Arriviamo più o meno a 60.000 oggetti, diciamo uno più? No! Di meno! Di più! Di più! Ma svariati decine di milioni di oggetti, svariati decine di milioni, è la raccolta più grossa al mondo e per quantità, non di valore perché di valore è uno dei più poveri al mondo, ma come quantità in assoluto è il più grossa al mondo, sono svariati decine di milioni, sono i bottoni per esempio 1.700.000 bottoni, la raccolta più grossa al mondo di ombrelli, 3.800 ombrelli, per non dire svariati decine di chili di frangobolli, un chilo 280.000 pezzi, quindi si furono un po' quanti milioni di frangobolli, per non dire, quindi sono circa 2.500 collezioni e più i pezzi unici come l'automobile di Al Capone, per non dire l'uovo di dinosauro, per non dire altri... A questo proposito, ma vogliamo tornare... Andiamo, io non vedo l'ora, guarda! E allora torniamoci, torniamoci insieme con Fabrizio Romagnoli e con Senena Cirillo a vedere, a scoprire veramente con i nostri occhi che succede, Fabrizio! Antonella, Giacomo, indovinate dove sono? In una delle macchine di Al Capone, ebbene sì, al Museo Agostinelli c'è anche questo, con calma, piano piano, perché è abbastanza delicata, ha qualche annetto come dire, e ho il piacere di incontrare Patrizia. Ciao! Ciao Patrizia! Ciao, buongiorno! Ciao, buongiorno! Come fate ad avere una delle macchine di Al Capone? Eh, questa l'ha riportata in Italia l'onorevole Calcagni, che aveva fatto un viaggio, si era innamorato di questa macchina e l'ha riportata qui, però poi lui sai com'è, anche lui è anziano, conosceva mio zio e gliel'ha venduta, e mio zio ci è andato anche un po' in giro, insomma, con questa macchina, però che c'è la manovella, insomma, ha delle difficoltà. Perché è funzionante. Eh sì, 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 è funzionante, ma c'è la manovella e poi comunque quando ti fermi allo stop vai in ebollizione, quindi ho un problema. Diciamo, insomma, per attirare l'attenzione è una cosa spettacolare. Sì, sì, andava bene. Mentre passeggiamo per le tante stanze del museo, questa è la stanza, Patrizia, si chiama? La galleria. Galleria, perché ognuno ha un nome, poi li vedremo, no? Certo, ogni sala ha un nome, sì, sì. E questa galleria perché ci sono i quadri, ci sono le tele, ci sono... Sì, perché questo spazio nasce inizialmente proprio come spazio dedicato all'arte, che era la prima attività commerciale di mio zio. Patrizia, camminando arriviamo ad uno degli oggetti, non voglio dire più importante, però molto, molto interessante, perché è la culla di Totò. Eh sì, eh sì, questa gliel'ha regalata il nipote di Totò a mio zio, e è appartenuta alla loro famiglia e quindi è stata usata effettivamente dai componenti della famiglia. È uno degli oggetti più importanti. Patrizia, e qui arriviamo nella sala delle stalattiti. Perché? Sì, è perché tutto pende dall'alto, come la formazione delle rocce, che c'è la stalattite e la stalagmite. Anche questa sala ha lo stesso senso, non soltanto per l'oror vacu e quindi occupare tutti gli spazi, ma anche un racconto di un vissuto, di una famiglia che si usava in passato appendere salami, prosciutti e quindi... Perché ricordiamolo, l'origine è un'origine abruzzese, no? Quindi si appendevano i salami, era un segno di benessere. Eh certo, e sì, e quindi anche questa cosa è stata ricreata qui. Quindi lo zio Domenico ha voluto appendere per usare tutti gli spazi anche un ricordo familiare. È bellissimo, è fantastico. Ma adesso dove mi stai portando? Eh, questa è una stanza bellissima, è quella dei mappamondi e dei pianeti. Tutto pende anche qui dall'alto, stelle, pianeti, a ricordare l'universo. Quindi questo mondo bellissimo che mio zio ha creato. È una stanza bellissima, direi la fine di un viaggio che oserei dire stellare. Sì, direi che è giusto. Bene. Antonella, Giacomo, la linea torna a voi e vi salutiamo dal museo... Agostinelli! Domenico Agostinelli e Patrizia. Eh, ok. Ciao. Ciao. Ciao Fabrizio, grazie a Patrizia, grazie a Serena Cirillo naturalmente per le immagini, ma questo viaggio non finisce qui. Non finisce qui perché c'è ancora da scoprire tantissimo con Domenico Agostinelli che rimane con noi. Ce ne andiamo in pubblicità. Se pensate alle collezioni che avete in casa non avete minimamente un paragone con quelle di Domenico Agostinelli qui in studio. Monete, filo spinato, carta igienica, ombrelli, meteoriti, bottoni, qualsiasi cosa è presente all'interno di un museo vastissimo, che è appunto il museo Agostinelli che vi abbiamo fatto vedere prima della pubblicità. Domenico, oltretutto la bellezza di questo museo è che è stato scoperto anche dal mondo del cinema, perché a un certo punto i trovarobbe si rendono conto che da te a Dragona potevano trovare qualsiasi cosa. Esatto, perché è un museo riconosciuto dallo Stato dal 92, però non ci danno sovvenzionamenti e loro per sostenerci economicamente li diamo in fitta al cinema, alla RAI, a Sky, al teatro, e loro ci sosteniamo economicamente. Allora, prima siamo entrati all'interno del museo e abbiamo visto le cose più disparate, dalla culla di Totò alla macchina di Al Capone, però il motivo principale per cui Domenico, e tra l'altro avete visto anche la valigetta che ci riporta proprio all'inizio di questo tuo collezionare. Tu l'hai raccontato, prima andavi in giro per il paese a scambiare oggetti, i quadrucci solitamente, dei santi, prima hai citato Sant'Antonio, e in cambio ti veniva dato chi un oggettino, chi uno strumento di musica, e piano piano si è fatta la tua collezione, ne era un lavoro e è diventata la collezione. Il motivo principale per cui Domenico colleziona tutto è questo proverbio, che è uno dei suoi preferiti, chi sente dimentica, chi vede ricorda, chi tocca impara. In questi tutti i lunghi anni del tuo collezionare cose, oggetti, quante cose hai imparato? Ho imparato moltissimo, perché ho una certa modestia, perché io sono stato in convento tre anni che dovevo fare il missionario, e dopo mio padre non poteva pagare più la retta, sono uscito, e loro invece di missionario ho fatto quest'altra missione, quindi salvare più gente possibile alla distruzione, perché negli anni cinquanti in poi, in questi ultimi cinquant'anni, c'è stata la spaccata della cultura umana paurosa, voi i giovani non ve la accorgete, ma in un altro periodo storico ci volevo 500 anni per finire questo cambiamento, è stata cancellata la civiltà contadina, artigiana, il pensiero umano, il comportamento umano, è stato trapassato tutto. Domenico, infatti tu in questo sei custode non solo di oggetti, perché l'oggetto in sé per sé può avere o non avere un valore, ma ha un valore rispetto alla storia che racconta, a quando è stato fatto, al periodo che comunica attraverso la sua storia, quindi tu sei custode in qualche modo della storia degli oggetti e anche della storia dell'uomo. Esatto, perché l'oggetto ti trasmette la storia vera, se uno li sa leggere, ti racconta tante cose, per me è stata una missione salvare più oggetti possibili alla distruzione, perché la maggior parte degli oggetti che ho andava al macero, e quindi si cancellava una parte di storia del passato, perché adesso c'è il rifiuto di tutto ciò di passato, invece no, perché la storia ci insegna. E devo dire che stamattina ci hai dato un bel insegnamento, da qualsiasi cosa, dal più piccolo oggetto ci può essere una storia dietro e una storia che riguarda magari non noi, ma chi c'è stato prima di noi. Grazie mille a Domenico Agostinelli per essere stato con noi stamattina, per averci portato all'interno del Museo Agostinelli a Dragona. Buona giornata. Grazie. Rimani pure comodo.